Eccoci in questo video dove voglio parlare, voglio dedicare questo video a parlare delle diverse basi che ci sono dei semi permanenti. Vi avevo detto che questo corso era strutturato in video ben divisi in argomenti. Questo video qui lo dedichiamo alle basi. La prima cosa che c'è da dire delle basi che ovviamente, adesso le metto tutte qui e vi farò un breve riassunto di quello che c'è da sapere sulle basi. Diciamo che ogni linea di solito ha presente la sua base. Ovviamente per eseguire il semi permanente deve essere una base apposta per il semi permanente. Ciò vuol dire elastica perché ci sono anche delle basi che hanno per il gel, sono adatte per il gel e sono un poco più dense. Ci sono le basi che sono adatte per il semi permanente, scusate, per l'acrigel, dove hanno i componenti adatti per mantenere l'acrigel. Addirittura questa linea che teniamo noi ha anche il primer all'interno, ma non è adatta, infatti è molto più liquida, non è adatta per semi permanente. È più adatta per mantenere acrigel, ok? Quindi le basi fondamentalmente, quando cercate una base, dovete cercare base elastica per semi permanente. Ovviamente ci saranno basi come queste che, infatti questo è un prodotto che ha fatto la Silker, troverete sempre sul sito www.fatanail.com Tutti i prodotti che vedete, come abbiamo detto negli altri video, è una base, si chiama 10 in 1. Si chiama 10 in 1 perché hanno ricreato un prodotto, voglio iniziare a farvi vedere qualcosina. Hanno ricreato un prodotto, adesso vi faccio vedere la consistenza, molto elastico e che addirittura si può fare tutto. Quindi guardate che bellissima consistenza, è morbido ma non cola. Questo si chiama gel tisotopico. Tisotopico vuol dire che viene mosso, il gel si muove solo quando noi lo andiamo a lavorare. Quindi si aprono questi componenti nel momento in cui noi li andiamo a lavorare. Infatti vedete che se lo muovo o lo stendo è morbido, insomma, no? Ok? È morbido. Ma quando vado a togliere il pennello, i componenti si richiudono, quindi si ferma. È ottimo per fare tutto e anche per essere automaticamente. Adesso togliamo questo. È ottimo anche per essere passato a smalto, visto che ha una consistenza molto di componenti, molto elastici. È ottimo per essere passato a smalto. Ovviamente qua, vedete? È ottimo per essere passato a smalto anche per una base semi permanente. Ok? Questo essendo una categoria di gel un po' più corposo e un po' più denso, vi risulta, andiamo poi a definire il semi permanente rinforzato. Che cosa significa? Come ho spiegato anche nell'altro video, per far durare il semi permanente di più, c'è bisogno di una base che sia più densa, più corposa, limabile e addirittura elastica, adatta al semi permanente. Oltre alla base normale, ok? Quindi, sono state create queste basi builder, che sono più dense, sono sia cover per chi vuole fare cover, e sia trasparenti. Sono state create queste basi più dense, per far durare il semi permanente di più, ma soprattutto per andare a coprire gli avvalamenti, perché a volte le unghie presentano tutti gli avvalamenti, poi vi metterò la fotografia, vi metterò, diciamo, il PDF con delle informazioni che potete anche scaricare. Ci sono presenti degli avvalamenti, quindi nel momento in cui un'unghia è tutta avvallata, ci sono dei fossetti, come li vogliamo chiamare, perché c'è delle unghie che sono difficili, quindi bisogna recuperarle. Noi, in questo modo, vedete, è proprio pratica, io faccio proprio quello che voglio con questa mano. Perfetto. E soprattutto non parlo. Ci sono queste basi che sono dense, dove noi possiamo andare, vedete, anche questa non si muove, possiamo andare a coprire questi avvallamenti in questo modo, quindi andiamo a mettere una puntina al centro, senza poi toccare il centro, andiamo a dividerla tutta la durata dell'unghia. Deve, praticamente, come si fa con una copertura, ma adesso non iniziamo il discorso di una copertura, perché in un corso semi permanente sarebbe troppo anche lungo, dovremmo andare ad apprendere diversi argomenti per quanto riguarda la copertura, ma cercherò di spiegarvi anche in breve, che, e lo vedete anche dal video di come lo sto modellando, adesso l'unghia è enorme, secondo me l'ho messa anche di meno, cercherò di trasportarlo un poco in più. Si va a ricoprire l'unghia senza toccare il centro, perché andiamo a simulare la struttura dell'unghia, ma in questo caso dritta, quindi andremo a fare una mini copertura e a coprire tutti gli avvallamenti, ok? E la copertura si fa in questo modo, perché l'unghia, voi sapete che non è piatta e dritta, quindi è fatta così. Allora, prendiamo.